È finita tra Veronica Ruggeri e Nicolò Dede è finita tra Veronica Ruggeri e Nicolò Dede Legati da cinque anni, i due, seguitissimi e molto apprezzati su social per le loro gag di coppia, hanno deciso di interrompere la loro relazione diverse Li vedremo ancora insieme alle Iene, ma la strada professionale, almeno per ora, sarà l'unica che continueranno a condividere Ad annunciarlo è stata Veronica Ruggeri tra le storie Instagram Ragazzi, è vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana Vi bacio I follower da giorni si chiedevano cosa fosse accaduto, avendo perso le tracce della loro coppia preferita, e la spiegazione della conduttrice non gli avrà certamente fatto piacere I follower da giorni si chiedevano cosa fosse accaduto, avendo perso le tracce della loro coppia preferita, e la spiegazione della conduttrice non gli avrà certamente fatto piacere Nessuna parola, invece, da parte di Nicolò De De Viti, che però sempre tra le in-stories ha pubblicato la foto della statua del dito medio di Piazza Affari, a Milano